Ma io non sono un grande fan dell'aumento di area C, però nel senso che penso che vada immaginata nell'ambito di una politica complessiva, di interventi, so che ne stanno discutendo, mi fido anche molto della concretezza e della lungimiranza di Beppe Sala. Certo penso che i comuni vadano aiutati dalla regione su tutte le politiche di sviluppo e di sostegno alla mobilità, perché da soli i comuni non riescono più, nonostante il grandissimo lavoro che fanno a sostenere ad esempio il trasporto pubblico locale. Se noi lavoriamo per potenziare radicalmente e la regione ha degli strumenti sinchini utilizzati, il trasporto pubblico locale, allora anche le politiche sulla mobilità e sul traffico diventano diverse.